La giornata con 25 nodi E come se si può fare? C'era un po' di rabbia per quello che è successo ieri? Sì, 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 dicevo ingenuità, è una cosa che è la prima prova di un mondiale Uno della tua età Non deve assolutamente succedere Giovanni ha detto mettici una pietra sopra, ormai è andato a me Sai cosa che mi fa ridere? Prima del campionato pensavamo, mi dicevi appunto di essere il tuo specialista in poppa Per oggi chiariamo che la regata prevedeva anche le poppe, non era solo bolina E se hai fatto questi piazzamenti con 25 nodi vuol dire che in poppa forse è anche un problema psicologico In poppa sono stato in piedi, anzi no, nella prima prova mi sono pure scuffiato Ok C'è stata una moria mi sa Per cui no, ho scuffiato però sono riuscito ad adrizzare subito la barca Ho perso veramente poco Beh, io ti faccio ancora i miei complimenti e ti lascio andare a riposare Perché dopo te la regata è stato bello stanco, bravissimo Ciao Grazie mille